Salve straniero, benvenuti al mio canale. Oggi avevo la fortuna di vedere l'ottavo episodio della mia nuovissima serie di Nazimo Eleven Go Luce. Sfide 5 vs 5. Oggi sfideremo la Baitai. Cominciamo. Attiviamo lo spirito. Il giullare. Passiamola. Non così però. Blocco. Scatola magica. Ok, abbiamo vinto. Scarpini miraggio, spremi miraggio. Ok, straniero. Spero che questo video ti sia piaciuto. Lascia un like e iscriviti al canale. E noi ci vediamo alla prossima con questa bellissima serie. Grazie. Grazie.